Siamo un'associazione di promozione turistica che è nata una decina di anni fa ma è attiva sul territorio da tre anni. Ci occupiamo principalmente di ridare fiducia al territorio, strutturiamo diciamo una serie di eventi che in realtà seguono più un'azione progettuale. Cosa mi ha spinto a fare parte della Proloco? Indubbiamente la voglia di essere una persona attiva. Cerco di mettere il più possibile quelle che sono le mie competenze e anche il mio tempo per provare ad attivare dei cambiamenti che possono generare benessere collettivo. Il compito della Proloco a maggior ragione dovrebbe essere quello di valorizzare davvero la ricchezza umana all'interno di un paesaggio, di un territorio. Noi siamo Proloco Turchellis, noi siamo terra di Messapi.